Aumentano i contagi e cresce l'incidenza negli ultimi sette giorni in provincia di Como. Dopo l'impennata di positivi registrata nelle settimane precedenti, nell'ultimo monitoraggio dell'ATS in Subria, si assiste ad un rallentamento della crescita della curva epidemiologica. Nella settimana dal 7 al 13 gennaio sono stati registrati 14.430 nuovi positivi rispetto ai 13.857 dei sette giorni precedenti. Negli scorsi monitoraggi il numero dei contagi era invece raddoppiato. Cresce l'incidenza dei casi Covid, il numero di positivi ogni 100.000 abitanti passa da 2.361 a 2.459. La situazione peggiore si registra ad Olgiate, dove il numero di contagi ogni 100.000 abitanti ha raggiunto quota 2.944. Segue la zona di Molomazze e Fino con 2.780 e quella di Cantù e Mariano con 2.748. In città a Como il numero di contagi ogni 100.000 abitanti è pari a 2.265. Nell'Erbese raggiunge quota 2.328, mentre nel Mediolario si arriva a 2.573. La positività per fasce di età evidenzia come la categoria più colpita dall'infezione in questo momento sia quella degli under 49, seguita dalla fascia dei 50-64 anni e infine quella relativa ai minori di 12 anni. Grazie. 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 Grazie.